Le telecamere entrano in quella che sarà l'area del futuro stadio del nuoto per i giochi del Mediterraneo di Taranto, una zona che è cara a tantissimi tarantini che fino ad un certo punto della storia sono venuti qui a trascorrere la Pasquetta, a visitare la fiera del mare che fu. Oggi un'area che per troppo tempo è stata abbandonata, ma grazie proprio ad un accordo che è stato sottoscritto tra Ministero della Difesa, De Mano e Comune di Taranto, torna fruibile in particolare per la struttura commissariale che sta già operando. A inizio ottobre, l'appalto è stato affidato, è circa 28 milioni di euro e quasi due anni di lavoro. Ne parliamo con il responsabile unico del progetto, si sta già lavorando, vediamo mezzi e uomini al lavoro. Scorsa settimana abbiamo già dato avvio e quindi la consegna dell'appalto con la progettazione esecutiva. L'impresa avrà 27 giorni per poter redigere il progetto esecutivo. Nel frattempo l'impresa, oltre a sistemare l'area, quindi cantilizzarla per renderla compatibile alle attività lavorative, andrà a redigere tra qualche giorno il piano per l'esecuzione della bonifica degli ordini bellici. È un'attività obbligatoria da espletare nella misura in cui bisogna fare degli scavi. Siamo a pochi passi dalla notissima Torre d'Aiala che non rientra in questo progetto, tuttavia ci sono alcuni ruderi qui vicino che potranno essere demoliti. Naturalmente la torre potrà essere oggetto di successive riqualificazioni. Verosimilmente, che idea vi siete fatti rispetto ai tempi in cui cominceremo a vedere proprio le fondazioni? A partire dall'inizio di dicembre.